Sono rispettivamente Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna e Giuseppe Sala, primo cittadino di Milano, il governatore e il sindaco più apprezzati in Italia dai propri cittadini. È stato questo l'esito dell'edizione 2023 del Governance Pool, la tradizionale rilevazione del consenso degli amministratori locali di 87 comuni capoluogo di provincia, realizzata da noto sondaggi per il sole 24 ore. Il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, si è piazzato al 29esimo posto, a pari merito con i sindaci Tarasconi di Piacenza, Calcinaro di Fermo, Abbonante di Alessandria, Corsaro di Vercelli, Tomasi di Pistoia e Caramaschi di Bolzano. Secondo il sondaggio, il primo cittadino del capoluogo Brianzolo gode di un indice di gradimento pari al 55,5%, in rialzo di 4,3 punti percentuali rispetto alla situazione al momento dell'elezione di esattamente un anno fa. Un aumento di consenso inferiore soltanto ad altri quattro sindaci italiani, Brugnaro, Mastella, Sala e Fioravanti. Il podio dei sindaci è composto da Beppe Sala, con un gradimento del 65%, Marco Fioravanti di Ascoli Piceno, con il 64,5% e Antonio De Caro di Bari, con il 63,3%. Si può affermare che nel giudizio della comunità cala il pregiudizio dell'appartenenza politica, commenta il direttore di Noto Sondaggi, Antonio Noto. Il fatto che i due vincitori del Governance Pool 2023 appartengano ad uno schieramento diverso dalla maggioranza di governo è un ulteriore indicatore di come il riferimento politico dell'amministratore passa in secondo piano rispetto alle sue capacità di gestione.